Con Tommaso Bianchi a commentare la sconfitta contro Vicenza è inevitabile non partire anche dall'assenza di Valentini, dall'infortunio di Ture. Diciamo che negli episodi non siete particolarmente fortunati quest'anno. Ecco anche con te l'infortunio che sei stato fuori quasi due mesi. È vero, questa settimana è stata molto dura, a partire dalla scorsa partita. L'infortunio di Jacopo ci ha tolto un giocatore molto importante per noi, sia dal punto di vista tecnico che tattico, c'è la fisicità. Forse è proprio anche una cosa che ci è mancata oggi e sicuramente poi anche con l'infortunio successivo di Momo che ha cercato in tutti i modi di darci una mano fino in fondo, però insomma la caviglia si vedeva che gli faceva male e siamo stati più sfortunati forse del solito perché due infortuni in una settimana non è proprio una cosa da tutte le squadre. Per 30 minuti però mi sembra che abbiate dato tutto quello che eravate in grado di dare. Chiuso 5 all'intervallo sotto, poi dopo è venuta fuori anche le rotazioni maggiori. Nobile vi ha sempre fatto male là sotto, però insomma diciamo che tutto sommato avete dato tutto quello che eravate in grado di dare stasera. Sì, penso che sì, come squadra, come individui anche. Purtroppo forse la stanchezza, forse anche qualche carenza personale alla fine l'abbiamo subita. Sicuramente eravamo corti, loro hanno segnato tanto, hanno segnato sempre con continuità. Noi abbiamo peccato in qualche scelta probabilmente anche offensiva data dalla stanchezza, forse da qualche scelta non giusta e alla fine abbiamo subito un break importante e non siamo più riusciti a recuperare. L'ultima cosa, l'ultimo partito anche da playmaker per cercare di dare una mano alla squadra. Ti chiedo sul piano personale come stai dopo un'assenza così lunga? No, ammetto mi sto riprendendo, direi che sono quasi al 100% della forma. Penso di poter dare molto di più, soprattutto in termini di difesa, più che offensivi. Le partite sono quelle meglio e quelle peggio, però in difesa devo sicuramente migliorare.